Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. Whites e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIVA 15 Ultimate Team una recensione di un calciatore, ci stiamo avvicinando velocemente al Team of the Year e ho deciso di mettere un attimo in pausa gli IF, il prossimo sarà la recensione di Griezmann nella sua seconda versione in forma sfruttando anche il fatto di non avere a disposizione gli IF questa settimana quindi ho deciso di recuperare un po' di giocatori base quindi dopo aver visto Tevez e Vidal continuiamo a parlare di Juventus con uno dei miei giocatori preferiti in questo FIFA 15 Ultimate Team non ero partito con grandi aspettative su Pogba che state vedendo ovviamente sotto perché mi aspettavo un giocatore sì buono ma inferiore magari a un Vidal o ad altri top tipo Ture eccetera eccetera poi l'ho provato e mi sono dovuto ricredere completamente perché Pogba è uno dei miei giocatori preferiti e adesso iniziamo a vedere le statistiche cominciando come sempre dalla velocità velocità che è buona per un centrocampista centrale non è né troppo lento né troppo veloce consideriamo una cosa è più lento di Vidal quello sì ma a differenza del cileno scusate è alto 1,86m quindi è veramente alto sembra quasi non dico Ibrahimovic però comunque un giocatore veramente alto con una forza fisica straordinaria che diventa davvero difficile da fermare quando è lanciato a rete o comunque quando recupera gli avversari perché al centrocampo dà una mano comunque ai suoi compagni per recuperare palloni quando ve lo trovate davanti diventa difficile saltarlo sia per la velocità sia per il fisico per quanto riguarda il tiro che è una delle sue caratteristiche migliori non vi ho messo tanti gol d'azione perché ho notato che non segna tanti gol su azione nonostante si vada a inserire molto non ne segna tantissimi a causa probabilmente della finalizzazione che non è poi così alta infatti poi andremo a vedere cosa metterli come chemistry style però ho notato che è un rigorista eccezionale vi ho messo tanti rigori che ha guadagnato anche lui come avete visto nella primissima clip o rigori procurati da altri suoi compagni però lui è veramente bravo a segnare sui rigori e cosa che mi ha stupito sulle punizioni è straordinario sapete benissimo che io non sono in grado di tirare le punizioni ma con Pogba ne ho fatte addirittura 3 o 4 quindi una buonissima media con Pogba ottimo tiratore di punizioni non pensavo perché mi aspettavo vabbè Pirlo ottimo tiratore ma Pogba sinceramente mi ha un po' stupito per quanto riguarda il dribbling buono con le 4 stelle skill quindi potete fare praticamente tutte le skill che servono per saltare l'avversario in più ha un ottimo controllo di palla quindi davvero anche per il dribbling poco da dire promosso a pieni voti direi potrebbero alcuni dicono alzarli addirittura le 5 stelle skill l'anno prossimo secondo me è un po' esagerato 4 secondo me è il numero di skill esatte per il giocatore per quanto riguarda i passaggi anche qui un pochino mi ha stupito perché ha sì un buon valore sulla carta perché comunque i passaggi li sa fare ma non pensavo fosse così bravo avete visto quanti calci d'angolo ho battuto col giocatore con la palla che finiva quasi sempre sulla testa del giocatore davvero non ho battuto tanti calci d'angolo che non hanno creato un pericolo io vi ho messo ovviamente solo quelli con i gol però davvero tante volte lui prende il compagno che ovviamente non può segnare su ogni calcio d'angolo comunque davvero bravo anche nel passaggio per quanto riguarda la difesa qui è una cosa importante che bisogna considerare la difesa non è male in questo giocatore perché da una mano nonostante l'alto medio di Warcrest ha i suoi compagni a centrocampo e grazie al fisico riesce a recuperare tanti palloni in più buoni valori di tackle quindi un colosso insuperabile certo non è quel giocatore come poteva essere un Turell l'anno scorso con medio alto di Warcrest che mettavate mediano 1 che faceva tutto lui Pogba non può essere questo tipo di giocatore ma in un centrocampo a 3 o anche in un centrocampo a 2 come l'ho utilizzato io nel 5-2-1-2 può dare una grossa mano in difesa chemistry style consigliati per questo giocatore? vi direi o quello base che secondo me è il più utile per tutti i giocatori perché va a aumentare un po' di tutto oppure gladiatori vado ad aumentarli il tiro e la difesa difesa detto magari gli diamo ancora qualche punticino in più per le scivolate eccetera eccetera e il tiro soprattutto per la finalizzazione dove utilizzare questo giocatore abbiamo visto un 4-3 che secondo me è il modulo migliore per la Serie A e per esaltare Pogba perché fa una mezzala a destra quindi può andare a tirar da lontano può inserirsi negli spazi che creano i guainque sui movimenti gervigno, quadrado o può buttarsi dentro di testa perché comunque di testa essendo alto 1,86 può impensierire il portiere avversario e comunque può dare una mano in difesa certo gli ho messo con co per coprire bene però Pogba comunque copre anche in difesa oppure la soluzione che mi piace di più a me è che è molto offensiva questa è una variante possiamo dire del 5-1-2 è il 5-3-2 con il CC centrale in questo caso che ho messo molto offensivo quindi questo di solito viene considerato il modulo più difensivo di FIFA perché magari se mettiamo tre centrocampisti che tornano molto tipo se mettiamo De Rossi al posto di Pogba avremmo più copertura ma mettendo Pogba in mezzo lo facciamo andare avanti per servire Tevez e Jovinco Jovinco è un giocatore straordinario che vi consiglio di provare poi abbiamo Nengolani e Vidal che fanno molto movimento quindi una squadra molto offensiva questa state bene attenti se soffrite in difesa per quello ho messo con co Radu se mettete già Evra Maicon attenzione che potreste rimanere scoperti parecchie volte in conclusione Pogba è un giocatore che mi è piaciuto davvero davvero tantissimo ha un fisico incredibile, ha un ottimo tiro con 4 stelle piede debole quindi tirate sia di destro che di sinistro ha un buon dribbling, le punizioni sono eccezionali e aiuta anche in difesa costa relativamente poco perché gira tra i 35 e i 25 mila credit in quel range lì col time of the year potrebbe scendere ancora quindi comprate assolutamente di contro la finalizzazione che è comunque ottima per un CC perché considerate che non è proprio la sua caratteristica principale comunque è un giocatore che sa far bene tutto sempre molto presente all'interno del gioco che vi consiglio assolutamente di provare quindi con oggi abbiamo concluso la prossima recensione sarà quella di Griezmann nella sua seconda versione in forma e poi prima del team of the year continueremo nella nostra serie dei migliori attaccanti di FIFA con un attaccante francese e un attaccante inglese noi ci vedremo presto ciao a tutti